Ancora un bellissimo evento realizzato dagli amici della pediatria Onlus a favore dei piccoli degenti e delle loro mamme dell'ospedale Sant'Andrea. Certo, certo. Noi ne siamo molto fieri del secondo progetto che abbiamo iniziato con Mare Suoni di Levanto e ne vado veramente non fiero di più perché in poco tempo siamo riusciti ad ottenere sia il primo progetto sul Codice Rosa che questo sulle Culle. Può ricordarci quando e dove si terrà questo concerto? Allora il concerto si terrà il 5 di aprile alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco. Durante la serata sarà possibile ancora acquistare i biglietti della lotteria a favore del Codice Rosa? Esatto perché il 12 di aprile ci sarà l'estrazione della lotteria al circolo ufficiali e quindi daremo possibilità sino all'ultimo minuto di poter acquistare gli ultimi biglietti invenduti. Nel concerto del 5 aprile a favore dell'ospedale Sant'Andrea ascolteremo i Napolitan Song. Chi sono? Dunque Napolitan Song è un gruppo formato da una dozzina di musicisti che propone musica napoletana dal 1200 attraversando tutta la storia della canzone classica per arrivare a Carosone che invece poi l'ha rivoluzionata fino a Pino Daniele e cercare di fare un viaggio in questa musica che vedrete sarà poi dimostrato che è la culla della musica italiana. Il ricavato del concerto andrà tutto quanto in beneficenza? Sì, il ricavato è tutto destinato all'acquisto di queste culle per i reparti di pediatria dell'ospedale Sant'Andrea. Dottoressa, quant'è importante nei primi momenti di vita del bambino il rapporto con la mamma e la vicinanza? È fondamentale, fondamentale per quello che è l'attaccamento della dia del madre bambino, il cosiddetto bonding, che comincia dalla nascita, dal primo momento quando il bambino appena nato viene posato sul grembo materno. Noi dobbiamo considerare che da quel momento il distacco non deve mai esserci. E quindi proprio per questo possedere delle culle di coslipping, oltretutto Sant'Andrea sarebbe il primo in Italia a possedere queste culle, è così importante? Anche questo è molto importante, è fondamentale perché facilita moltissimo quello che deve essere proprio il contatto della madre col bambino. Il bambino non sta nel letto con la madre ma sta vicino, vicino alla madre e la madre può averlo alla sua stessa altezza, attaccarlo al seno e averlo vicino come se fosse nel suo letto.